Salve, su questa terra esistono due specie di esseri che camminano, che chiamano uomini. Prima esisteva solo una, ma con il tempo chi ci controlla questa mandria fa in modo che solo i più dementi possono riprodursi. Rende la vita impossibile a chi ha cervello e vede che siamo in schiavitù. Per noi ci sono solo le seghe al massimo, non ci è permesso moltiplicarci. Nella testa di quelli che succhiano cazzi tutti i giorni, perché sono di un livello inferiore di cervello, non ci arrivano che stanno succhiando cazzi. Cioè noi pochi li vediamo che dicono, ma che cazzo stai a fa? Cioè sei tutto sporco di sperma in faccia e in bocca. Che che stai a fa? Ma loro dicono, ma non ti vergogni a non succhiare cazzi, a non lavorare? Non ti vergogni a stare così senza fare niente? Io nel 2015 o 2016, non mi ricordo il preciso, ho messo gli occhi di They Live e ho visto che stavo succhiando cazzi. Tutti mi dicevano, ma è un buon cazzo quello che hai, a tempo indeterminato anche. Stai lì in ufficio, all'ombra, al coperto, stai davanti al computer a succhiare cazzi. Perché l'hai lasciato quel lavoro Marcel? Perché Marcel non succhi cazzi? Come facciamo tutti noi dementi? Molto di questo specie di umano limitato mentalmente non succhia i cazzi solo figurativamente. Cioè lavora, spegne il cervello, va al lavoro e fa una cosa che non vorrebbe fare perché non è schiavo e quindi non può fare come fa un qualsiasi altro animale che lavora per sé. Si muove. Si muove e mangia. Costruisco una casa con le mie forze, ci sto, me la godo. Zappo la mia terra, lavoro per le mie piante e mangio. Lavoro con i miei animali e mangio. No. Questa specie di succhiacazzi limitato vede te. Siccome è schiavo e non può, non sa, non è concepito per lei non lavorare per chi gli dice il sistema. Sono questi dementi che mandano avanti questo sistema infernale, giustificando il succhiare di cazzi. Sono questi malati di mente, limitati mentalmente. Non me ne frega un cazzo di che lavoro fai. Stai succhiando cazzi. Perché è un qualcosa che non vorresti fare. Una persona libera lavora per sé stessa. E quando voi dementi, limitati, dite a me che sono un parassita, a me mi rimbalza. Io vedo la vostra faccia piena di sperma in bocca e rido. Mi fate vomitare. Mi fate vomitare. Perché ovviamente voi mi dite, ma come ti permetti a mangiare lì bio? Tua madre ti porta il cibo e tutto quanto. Questo è vero. Ho provato da quando ho lasciato il lavoro. a trovare. Dopo che ho visto che succhiavo cazzi, ho cercato di vedere ma c'è modo in questa realtà in cui mi trovo di campare senza succhiare cazzi. Ho scoperto che non era possibile. E alla fine ho cominciato a camminare. Dopo andarmene dai miei. Camminare, camminare. Ho dormito in case abbandonate. Ho dormito per più di due mesi in un rifugio in montagna, in Romagna, lozzole. Ma appena venivo a contatto con voi dementi limitati, scintille. Ma tu speri in un mondo che non si può realizzare, mi diceva Giorgio lì all'Ozzole. E mi attaccavano ogni volta che mi vedevano. Io non gli consumavo niente lì. Avevo trovato questo rifugio, solo pietre c'erano lì. E ho dovuto abbandonare anche questo. Poi quando è venuto il Kamen Nighting, cioè il venire in faccia a 19, a voi dementi. E ho cominciato a camminare qui in Abruzzo e mi hanno fermato. mi hanno detto se continui a camminare invece di stare a socchiare cazzi nella tua città, nella tua regione, noi ti faremo un bandito per andare qui in Abruzzo, dove stavo a Roma, l'Abruzzo che sono le montagne più vicine. Poi mi hanno trovato anche in una casa abbandonata, che io non ci dovevo stare lì. E insomma ho rischiato anche grosso. Non c'era nessuno in quella casa, però era comunque di qualcuno, proprietà di qualcuno. E io stavo lì perché avevo trovato in qualche modo la libertà. Perché non posso socchiare cazzi come fate voi dementi. Siete voi dementi con la vostra testa limitata che mandate avanti questa merda. qualsiasi lavoro voi fate, voi mandate avanti questa schiavitù di merda. Voi schifezze limitate. Infatti non dovrei nemmeno odiarvi perché... Attenzione, quindi questa persona adesso mi ha detto, perché io le ho risposto, non riesco a fare la mignota, a voi vi viene bene fare la mignota. E questa persona mi ha detto, tu fai il pappone. Io faccio il pappone. Che cazzo vuoi dire? Che cazzo vuoi dire? Niente. Prova a dire a questi schiavi di merda che si trovano in una cazzo di prigione. Si incazzano. Io dico a mia madre, madre, non portarmi cibo. C'ho le patate qua, del cazzo che ho piantato. Non c'ho bisogno che mi porti queste cose qua. Ma lei porta, lei non riesce a vivere, sta costantemente col pensiero a me. Io più di dirle, non mi portare queste cose, non so che cazzo fare. Mi viene da piangere perché, insomma, più di dire alle persone che smettete la porca troia di succhiare i cazzi che potremmo uscire da questa schiavitù di merda. Ma con chi cazzo parli? Con chi cazzo parli? Con gente che è limitata mentalmente? Ma secondo te, persona che non posso dire il nome, perché non vogliamo... Quindi stavo dicendo, voi, tu persona, perché non posso parlare, e stavo dicendo, voi non solo vi prostituite figurativamente, cioè al lavoro, fate quello che non vorreste fare, qualsiasi cosa, che non è un lavorare per te stesso, ma voi lo fate anche letteralmente le mignotte, specialmente se siete donne, per campare in questa schiavitù di merda. E avete il coraggio, porca troia, di dire che quello che faccio io non è giusto? Io non ho cazzo di scelta, io vorrei andarmene da qua, non posso andare da nessuna parte, non ti fanno più camminare, dove cazzo vai? Se devo combattere, per dire, come cazzo combatto, combatto così camminando? Quello è pensare a me stesso, no! Io metto la mia faccia qua e cerco di fare più male possibile a questo stato delle cose, facendo questi video, non c'è altro modo. Tu dimmi una persona giusta oggi, dimmi una persona giusta oggi, dammela, segnimela e dimmi che cazzo di lavoro fa, come si mantiene questa persona. Se io trovo in questa cazzo di terra una persona oggi che vive in una maniera intelligente, io seguirò il suo esempio. Per me in questo momento, in questo momento del cazzo che ci troviamo, l'unica cosa intelligente da fare e togliere questo sanguisuga di marda che ci tiene così, ma ovviamente voi avete altre priorità, voi dovete pagare le bollette voi. Ma quelle bollette che state succhiando cazzi? Prima togli il cazzo dalla bocca! E poi pensa alle bollette, schiavo di marda! Non so veramente che cazzo dirvi, veramente il vomitevole, vomitevole, stato di... E queste sono le persone, cioè non stiamo parlando di pecora qua, qui stiamo parlando di queste intelligenti. Di questo 3%, di questi pochi che hanno un minimo di cervello, non si sono fatti... E questi qua, nemmeno loro riescono a vedere i pompini che fanno tutti i giorni per vivere. Eh, ma vanno fatti i pompini. E loro combattono anche per un mondo prima del 2020, quando si continuavano, quando si facevano i pompini. Io ho lasciato lavoro nel 2016, quando non c'era nemmeno il corona, perché mi sentivo sporco di sperma in bocca. C'avevo il culo spaccato dai cazzi che ho preso al lavoro. A voi invece mi si è adattato il culo e lo sentite tutto a posto, non c'è nessun problema. Non c'ho che altro a dire, veramente. Da brividi. Orrore puro. horrore puro oh my god see his penis